Ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, un nuovo video a squadre dove tra una cazzata e l'altra ecco riusciremo anche a fare una bella partita Spero apprezzerete, lasciate un like, fatemi sapere se volete vedere altri video in compagnia di Ivan, di Dario eccetera eccetera Buona visione Devo ritendere a corso, a corso va a mosso, subito così, a via del corso, a fare shopping baby Andiamo a comprarci un po' di banale, andiamo a comprarci un costume da gorilla dai Grandi ragazzi Dove siete ragazzi, cosa state luttando? Io scudini a neve, Ivan, Ivan hai l'arma, sai tu sopra che non c'ho un cazzo io Ivan anziché luttare vai a ammazzare quello sopra Io ho luttato un po' Minchia di sei fottuto lo scudo, Dario Ma non è quello di merda Fa un culo quanto piange sto uomo No, ecco qua Curatelo per favore Eh, lontano Vabbè, fai spettatore, che ti devo dire Spetti Come qualsiasi volta che gioca con noi Pa 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 Ecco qua No, no Un altro Curalo Dario, ti prego salvalo, sta morendo È quello che ho scuso meglio È one shot Dario, ammazzalo Dov'è dai che sto arrivando Non ce l'ho scoperto C'ho 16 di vita Dario Dove è Dario? Si sta prendendo uno scudo, si sta bevendo qualcosa Dario, 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 mi devi rianimare Dario, c'ho 6 di vita Ok Qualcuno ha un medit Qualcosa C'è uno qua sotto C'è qualcuno sopra Non è sotto Scudini li volete? Eh, io sì, magari Qua sotto Mecca da avere il tipo che ho steso Ho trovato un vampa blu C'è qualcun altro in zona, mi sa di no C'è uno qua, che sta piazzando i C4 Andiamo da Leo No, che no Qui c'è una cassa Eh, lo so, la sento Però andiamo da Leo Pieno di gente No, mi falta la piattaforma C'è sotto eh Sotto eh Vabbè Dio d'archezze Te ne faccio leggere altri Raga C'è uno qua sopra Glu, 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 glu Glu, glu, glu Glu, glu C'è sicuramente qualcun altro C'è qualcun altro comunque sicuramente Vabbè andiamo via da qua dai Magco possibile ci sono ancora 64 vivi Sta cayendo l'aerer drop qui Guardate Minchia che culo. Comunque stanno rompendo lì davanti. Spariamo l'aerodrop, spariamo l'aerodrop. Qui dentro, raga. Ok, ho la lancia razza, ora posso lanciare Ivan. Ho la trappola. Ho piazzato io, Ivan. Ci sono nemici? No, ce la sono uno. Andiamo, 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 vai. Raga, a Dusty Depot ci sono nemici. Ok, 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 fermo un po'. A Dusty Depot. Ok, ti lancio col razzo, ok? Ok, a posto. Ci avviciniamo un po'. Stanno costruendo, secondo me si stanno fightando. Vai, ti lancio, ti lancio Ivan. Vieni, fatti qua, stai qua, veloce. Col tuo bastone carota. Vai, 3, 2, 1, salta. 3, 2, 1, salta. Ma così è troppo in aria, Leo, cioè. No, no, no. Ma come no? Guarda dove sta sparando. No, no, Leo, io non vado così. L'ho fatto apposta. Guarda. Cosa è successo? Non ho più un razzo rebloccato in aria. Dai, Ivan, si è caduto perfetto almeno. Dai, si è caduto sopra i nemici, Ivan. Cerca di fightarli. Non hai capito? Mentre ero in aria, gli lanciavo i colpi di lanciare a granada. Sono stremiti a molto. Hai fatto quasi un full team, Ivan, da quel che ho visto. Mi viene da dare una mano, raga. Oddio. Ma dove... Non si capisce un cazzo. Cioè, Leo li ha uccisi tutti. L'ho visto. Vai a curare, Ivan, vai a curare, Ivan. Ragazzi, se c'è un medico, ti ho lasciato. Sì, è pieno di roba. Dai che, Ivan. Sono qui dentro, Dario. È stata bellissima sta roba, però. Ma se riuscivo ad ammazzarli, era ancora più figo. Perché ti bendi, gorilla? Ma mai sei ferito? Com'è stato il viaggio sulla luna? È stato divertente. Andiamo... Minchia, 40 vivi ancora. Andiamo a vedere là. Andiamo a averci accaduto i nemici. La cazzata l'abbiamo fatta. Ma... A posto. Siamo felici. Ivan è volato. Tutto a posto. È vivo. Siamo ancora vivi, signori. Minchia, ma comunque eri in alto. Minchia, eri in altissimo. Ma ne stavo ancora alzando. Se non mi lanciavo, ancora andavo in alto. Perché volevo cercare la place. Ma cosa, cioè? Non è proprio impossibile. Place di che tipo, sentiamo. Non lo so. Ma vinciamo a sta ferita, raga. 40 vivi, 7 kill. Ce ne faccio 30 se continuiamo così. Ma porca, mamma delle trappole. Non bestemmiare. Scusate. Che è triggerato a sfacchi, Ivan, perché sta trappola. Non si trattiene proprio. Minchia, ha piazzato da me così, poi, oltretutto. Ma che datezza. Ah, hai preso una... Si è inciampato in una trappola. Eh, minchia. Ma si che attrappola... No, perché nel momento esatto in cui l'hai detto io ho piazzato una trappola. Cioè, tipo, un secondo... Maledetti bracconieri, sempre pronti a catturare ogni gorilla. Minchia, i gorilla sono in estinzione e andrebbero protetti, ragazzi. Ma sono in estinzione? Sì. Sono una specie a rischio. Ah, ecco, Ivan, allora, perché ti devo rinchiudere in gabbia. Ok, ho visto gente, venite, venite, venite. Sei un orchetto. Venite, venite. Io ce la mangio. Ragazzi, 2,28. C'è gente qui davanti, qui davanti. Io ho visto gente qua davanti che correva in mezzo agli arbusti. Magari è una visione, però non penso. Arbusti. No, no, è qui nelle... Ok, li ho visti, sono qui che fanno le scale. Ok, è caduto. Si è anche danneggiato, magari. Sono dietro di lui. Ha impiazzato le trappole, attenti. Ah, minchia, ho ucciso uno con una trappola, quella che avevo piazzato indietro. È la casa davanti, raga. Oddio, è pieno di gente qua davanti. Ragazzi, io ne ho mai dati a terra due con la trappola. Sto bombardando quello dentro. L'ho ucciso! Mi sento male. Nella casa... Nella... Nella montagna davanti c'è gente, raga. Ma chi state spara? Oh! Uno sul tetto. Sono due. One shot, uno preso. C'è l'altro, eh. L'altro è già hittato pure lui. Uno davanti, uno davanti, lo vedete, sotto la montagna. Sottolettato. Si stanno challenge... Ammazzate quel coglionazzo là sopra. Bello. Oh mio Dio, raga. Mi sto un attimo curando. Io sto facendo... One shot, le ocolo sotto. Oh, un altro! Ma che cazzo sta succedendo, raga? Io ve lo giuro, sto facendo una ferita più chill della mia vita. Sto proprio correndo a caso sparando missili. E sto ammazzando gente continuamente. Mi sento male. Quanti chi l'avete? 24 rimasti. Comunque io dietro ne avevo mandati a terra due con la trappola che avevo piazzato. Raga, c'è uno snaglio. Raga, avete gente che corre in mezzo a... Ne ho uno a fianco. Penso di averne adesso. Io non ne ho. Ah, sì, ne ho otto. Dove sei? Mi stavo sparando un razzo, raga. La situazione è massa critica. Dove sei tu? Sulla montagna. Dove siete voi? Oh, eh, c'hanno un fortino, eh. Dove siete voi? Sono a montagna. Sono sopra la montagna, Leo. Dove andare da... Minchia, ce n'è uno dietro. Ok, abbiamo anche gente dietro. Siamo un po' nella merda, sapete? No, aspetta. Quello che era dietro era da solo, perché l'ho ammazzato. Avete scudini, raga, vi prego? No. Due, sì. Eh, Ivan, sono sotto. Sono sotto che ho appena faiutato uno. Mi date i razzi, vi prego. Però mi devi dare un po' di colpi di AR, dai. Hai razzi, Dario? Mi ha un K di colpi di AR, vieni. Ivan, salta, come lo dico io. Tre, due, uno, salta. Oh, perché sono troppo vicino. Tre, due, uno, salta. No, aspetta. Vabbè, vaffanculo, andiamo. Andiamo avanti. Vaffanculo. Non c'è un punto buono per lanciarti, è inutile. Ucch, era più di gente lì, raga. Qua, 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 qua. C'è un fortino gigante qua, venite. Io c'ho il fortino portatile. Ok, ok, ok. Stanno costruendo, raga. Alla in fondo, alla in fondo, l'hai visti? Ti lancio, ti lancio, dobbiamo farcela. Vai, Ivan, tre, due, uno, vai. Ok, vai, Dario. Tre, due, uno, vai. È un po' bassino. No, tre, aspetta, vai. Minchia, tre, due, uno, vai. Ok, let's go, arrivo. Dario, da Dio, ce la fai, fai qualche kill. Sparagli con quello che hai. Eh, no, muoio. No, non muoio. Cinque di vita. Sto arrivando, sto arrivando. Minchia, è stata una brutta picca questa cazzata. Oh, Ivan ha fatto una kill, però. Cazzo, l'hai fatta veramente? Sì, sì, sì. Oh, cazzo. Ma sono finiti i nemici? Con l'aiuto di Dario Marco. Eh, mi cacciavo cinque di vita io. Raga, quanta roba c'è da luttare? Dove? Oh, mio Dio, ovunque. Oh, mio Dio. Sei vivi? 11 kill io. Quante ne avete voi? Ok. C'è un airdrop che arriva. Siamo contro tre persone. La vinciamo, raga, la vinciamo, la vinciamo. Venite? Qua c'è l'airdrop. Ok, venite qua che faccio un fortino e vi lancio. Facciamo la finale su... Lanciandovi proprio a cazzo duro, venite? Dovevi avere anche il trampolino, ora. Anzi, facciamo così, mi lanci tu Dario, ok? Mi sento uno qui. Sono qui, sono qui, sono qui. Cazzo sei, dove sei? Non ti vedo. C'è lì, Dario. A terra uno. Lasciate l'ultimo. Ok, l'ultimo, l'ultimo, lasciate l'ultimo. L'ultimo è là davanti, raga, è là davanti. Gli facciamo la final kill. Finite gli altri, venite qua. Ivan, sali su. Ok. È dentro, è dentro, raga. Poi, buttiamoli giù tutto, allora. Quanti razzi hai, Ivan? Cinque. Ok, non usarli, non usarli, non usarli. È sul tetto, è dietro la casa. Ok, ok, lanciami, Ivan, lanciami, Ivan. Ok, sotto, veloce. Minchia, questo... Questo mi sa, c'è l'incazzato. Vai, Leo. Vieni qua, sali qua, Ivan, sali qua, sali qua. Tre, due, uno, vai. Te lo sto hit... No! No! No, sai cosa ho fatto? Ho detto, te lo sto hitando, gli ho dato due colpi. Era one shotissimo, era one shotissimo. No, gli ho tolto, gli ho tolto 36 e 36 di scudo e non aveva più vita poi. Gli ho dato un altro colpo, 36 è morto. Cioè, ho detto a me non te lo mando one shot, lo uccidi con un colpo. Guardate, quante kill avete fatto? Io ho 11. Io ho 4. Vabbè, dai, minchia, abbiamo fatto un bel po' di kill comunque. Abbiamo fatto 19 kill. Ci sta, ci sta. Ciao. 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 Grazie a tutti.